Round, round, get around, I get around, get around, round, round, 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 I get around, 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 una sera a teatro, non mancano le proposte, da qui voglio segnalare quella che ci viene offerta dal Teatro d'Europa, nato dalla intuizione, direi anche dalla ispirazione di Don Ferdinando Renzulli, straordinario e indimenticato sacerdote della Diocesi di Avellino, che è stato per altro nostro carissimo amico e interlocutore per un buon numero di anni. Bentrovata ad Angela Caterina, attrice che con il Teatro d'Europa porta in scena, niente poco di meno che, Filomena Marturano, una commedia di Edoardo De Filippo, scritta nel 1946, inserita nella raccolta della Cantata dei giorni dispari, che ancora oggi rappresenta uno dei testi teatrali di un autore italiano più noti, conosciuti e apprezzati nel mondo. Parleremo di Filomena, parliamo però prima un po' del Teatro d'Europa, un'esperienza che viene anche, ormai possiamo dirlo, da abbastanza lontano, che fa laboratori, che si apre al contesto della società, soprattutto ai giovani, come era, diciamo così, nella intenzione originaria, ispirata di Don Ferdinando. Sì, un vero e proprio centro di produzione e anche un'opportunità per i giovani. Da quest'anno è partita la compagnia dei giovani, anzi lo diciamo perché forse è sfuggito un po' a noi anche comunicarlo. È partita questa iniziativa di questi giovani attori o aspiranti tali che stanno già mettendo in scena uno spettacolo che è il canto di Natale di Dickens e che poi metterà in scena altri spettacoli. Quindi una compagnia formata da tutti i giovani. Ecco, quindi naturalmente questo diventa un percorso dentro un laboratorio molto molto creativo, mi pare di immaginare. Capace di liberare, diciamo così, tutte le potenzialità che soprattutto i giovani ne hanno tante che sono abbastanza sparpagliate se non nascoste al mondo. Però questo tipo di attività consente di selezionare. Sì, di selezionare nuovi giovani e di scoprire nuovi talenti. A volte ti capita che sei di fronte a questi ragazzi, vai a fare i laboratori nelle scuole e trovi dei ragazzi che davvero riescono ad esprimere delle cose bellissime e magari nessuno mai ci aveva chiesto ma per caso tu vuoi fare teatro? Si sono trovati lì all'improvviso e quindi è molto molto bello, è la sorpresa, è la sorpresa di incontrare queste energie. E qual è la soddisfazione più o meno intima che dà il teatro a chi fa teatro? Questa è una domanda alla Marzullo, mi scuso con tutti, anche con Marzullo che sarebbe stato in grado di metterla diversamente. Comunque. È un mistero. Ecco un mistero. È un mistero, perlomeno per me lo è. È un mistero nel senso che quando sei sul palcoscenico e interpreti un personaggio, quindi non te, ma quel personaggio, dici ok questo è il dono di Dio all'umanità perché mi sta dando un qualcosa che io come persona non avrei potuto avere perché quel tipo di esperienza, quei sentimenti, quelle emozioni, la psicologia, gli odori, le movenze, completamente diversi. Ecco facendo teatro anche qui un po' marzulliana la cosa ma insomma facendo teatro si è portati a diventare qualcosa di diverso da sé oppure è anche soprattutto la scoperta di sé? È la scoperta di sé, la scoperta di sé nell'altro, la scoperta di sé nell'occhio dell'altro, forse sì. Quali sono i testi diciamo così sacri da questo punto di vista del teatro d'Europa, dal punto di vista teatrale? A parte Edoardo di cui parlerebbe. Edoardo, Filomena Marturano che è enorme, enorme, è una sorpresa anche per me, è una sfida tantissimi a partire dalle commedie di scarpetta che noi facciamo come repertorio, anche agli spettacoli di teatro contemporaneo, sperimentale e inedito perché da un bel po' di tempo il teatro d'Europa mette in scena degli spettacoli di autori non conosciuti ma che sono anche molto molto belli e quindi cerca di fare anche questo. Parliamo di Filomena, la storia è quella, la conosciamo tutti, di una ex prostituta che da 25 anni vive mantenuta da Domenico Soriano, un ricco commerciante, uomo d'affari, dal quale ha tre figli, la cui esistenza Filomena rivelerà soltanto quando Don Mimì si invaghisce di una giovane, Diana, avvenente e Filomena ha seguito i suoi tre figli mantenendosi nell'ombra ma soccorrendoli nelle loro difficoltà, restando sempre in disparte. Quando Domenico Soriano decide di lasciare Filomena, Filomena con uno stratagemma si fa sposare in articolo mortis e poi sappiamo come si snoda la vicenda. Naturalmente Filomena Marturano è anche, si potrebbe dire, a parte una grande opera teatrale, ma insomma è anche, si legge anche una lettura intorno alla famiglia borghese praticamente, insomma i valori che si riconquistano dopo averli persi. Sì, la famiglia, l'importanza è la famiglia che poi si evince appunto nel testo di Edoardo. Questo attaccamento, infatti Filomena lo dice, no? La famiglia. I figli. I figli, la famiglia, l'unione, la famiglia che serve come consulto, come sfogo. Quindi questa è una cosa che emerge molto, molto nel testo di Filomena Marturano. Un'altra cosa che a me ha colpito e che sono grata ad Edoardo, grazie, è l'umanità di Filomena Marturano. Perché è vero sì che lei era un'ex prostituta, che poi è stata costretta alla prostituzione dalla miseria, perché lei veniva dai bassi, dai bassi di Napoli e quindi il padre un giorno le disse, senti qua non c'è più da mangiare, devi vedere un po' come devi arrangiarti e lei, portata da un'amica, appunto fu costretta, no costretta, ma scelse. La miseria che fa guardare come nemici gli stessi componenti della famiglia, quasi a dire sto rubando qualcosa nel piatto. Infatti, quindi ritornando alla questione dell'umanità di Filomena, è vero che Filomena è una donna, un'ex prostituta, ma ha un grande cuore, perché poi si sente per me e si legge o si vede a teatro, insomma, che lei ha un forte, forte, forte legame con i figli, ma anche con le persone, perché lei cerca di aiutare le persone che sono in difficoltà. E non solo, ma poi questo amore per Domenico Soriano, il suo primo uomo, perché lei lo dice, dice io quella sera incontrai la mia amica e poi ho conosciuto te. Poi e poi e poi c'è quell'intercalare. Sì, quindi... C'è da dire che, c'è anche da dire questo su Filomena Marturani, insomma, c'è il capovolgimento dei canoni, delle gerarchie, delle valori, perché insomma Filomena è la sconfitta, diciamo, che però poi vince ampiamente sostanzialmente. Sì, quindi non è la sconfitta. E quindi si capovolgono i canoni, i valori, le gerarchie. Certo, certo. Anche questo. Volevo chiedere, ma insomma, come ci si sente ad interpretare Filomena Marturano di Edoardo, tenendo a memoria che, insomma, questo ruolo ha visto protagonista delle più grandi attrici, a cominciare da Titina, De Filippo, per la quale Edoardo scrisse proprio il personaggio di Filomena, ma insomma, Pupella Maggio, Regina Bianchi, fino a Valeria Moriconi, Isa Danielli, Lina Sastri, da ultima Maria Angela Melato, nel 2010 in tv con Massimo Ranieri, una riduzione della commedia in italiano. Poi nel 64 Vittorio De Sica, il film Matrimonio all'italiano, un altro grande successo internazionale con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Citerei ancora due ininterrotte stagioni di successo a Londra nel 1977 con John Plurite, che era la moglie di Sir Lorenzolivier e due anni dopo a Broadway con la regia dello stesso Sir Lorenzolivier, protagonista John Plurite. Ma dico, insomma, ci si sente un po'... È una grossa responsabilità. È una sfida notevole, no? Sì, è una sfida notevole ed è un dono per me, è una responsabilità. Io mi sento lusingata. Un giorno arrivò Luigi in teatro e mi disse... Mi hai dimenticato di citare Luigi Frasca, che è un po' l'anima, diciamo. È lui l'anima del teatro e così. E lui venne da me e disse, Angela, dobbiamo fare Filomena. E io lo guardo e dico, ma tu stai dicendo davvero? E lui mi dice, sì. E chi è che fa Filomena? E lui mi guarda, fa tu. E io dico, sì, io, ma sei pazzo? E lui disse, no, 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 dobbiamo farlo. E ho detto, va bene, facciamolo. Quindi speriamo bene, lo spero davvero. Allora, non per metterti, diciamo così... Ma vediamo questo brano di Filomena Marturano. È tratto dalla riduzione televisiva del 1962. Dentro questa registrazione, diventata famosa per la televisione, c'è anche un episodio di cui vi diremo tra poco. Ma sentiamo questo breve brano di Filomena Marturano con il protagonista Regina Bianchi. Tre dopo mezzanotte, fa strada camminavo io sola. Da casa mia già me ne ero andata da sei mesi. Era la prima volta. E che faccio? A chi io dico? Sentevo in capa me, e voce dei compagni miei. A chi aspetti? Ti togli il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Senza voler. Camminando, camminando. Ma trovai dintovicola mia. Nanza all'altarino da Madonna del Rosa. L'affrontai così. C'ha già fatto? Tu sai tutto. Tu sai pure perché mi trovi dintovicato. C'ha già fatto? Ma essa zitta io. Non rispondeva. E così fai, a vero? Chi non parla è chi ha gente di creare. Sto parlando con te. Rispondi! E i figli sono figli. Mi gelai. Rimanete ferma. Ma così. Forse se mi girava avrei visto e capito da dove veniva la voce. Da dentro a una casa col balcone aperto. Dal piccolo appresso. Da sopra a una finestra. Ma pensai, perché proprio a chi sto momento? Che non sape a gente dei fatti miei. E' stata essa allora. E' stata Madonna. E' stata vista affrontata tu per tu e mi ha voluto parlare. Ma allora Madonna può parlare se serve in uri. E quando mi hanno detto... Ti togli il pensiero. E' stato pure essa che mi ha detto. Può me mettere a prova. E non sa se si fu io. O a Madonna del Rosso che ha fatto la capa così. E i figli sono figli. E giurai. Ecco. Era Regina Bianchi. Riduzione televisiva nel 1962. E proprio a Regina Bianchi e a questo brano di Filumena Marturano sono legati due episodi molto poco noti. Durante la registrazione, questa registrazione nel 1962, alla quale collaborò anche Andrea Camilleri, il padre di Montalbano per intenderci. grande sceneggiatore, grande autore televisivo dai tempi lontani, diciamo. Bene. E' Edoardo allora si registrava senza interruzione. Per cui non si poteva sbagliare. Si registrava il primo atto, tutto intero, il secondo e il terzo. E' Edoardo prima che cominciasse la registrazione disse a Regina Bianchi Regi vedi che Titina, insuperata e insuperabile protagonista di Filumena, della prima Filumena del 1946, anche poi in una riduzione cinematografica, il Sergì vedi che Titina sta cosa se la guarda. E insomma, la Bianchi diede una interpretazione straordinaria, come si è vista anche da questo brano. E a causa della tensione accumulata, alla fine della registrazione del primo atto, praticamente svenne. Camilleri, che era rimasto incantato, si stava precipitando per andarla ad abbracciare, alla fine del primo atto, e la trovò svenuta sul palco. Insomma, Regina Bianchi, possiamo dire, insuperabile. E poi questo mi pare un po' il cuore, diciamo così, della vicenda. Uno dei tanti cuori che battono dentro questa commedia. dei monologhi più intensi e densi di Filumena, perché lì si capisce chi è Filumena, davvero. E anche il legame con la religiosità, perché dice, io parlai con la Madonna, l'affrontai così. Cioè, quella vicinanza alla fede, che poi l'ha aiutata. È una preghiera che comincia con una sfida, diciamo. Sì, sì. Da parte di uno che pretende di essere aiutata. Ma per Filumena forse la vita stessa è stata una sfida, fino alla fine. Fino a quando poi non ha trovato quel momento di pace che l'ha liberata, quando lei finalmente, per la prima volta, piange. Ecco. Alla fine dello spettacolo. Quindi, sì. Come è bello piangere. Si arriva a dire anche questo. L'altro episodio, collegato proprio a questo brano che abbiamo sentito di Regina Bianchi, fa riferimento alla prima rappresentazione di Filumena Marturano nel 1946. Attraverso i buoni uffici del direttore del popolo, che era il quotidiano della democrazia cristiana, la compagnia di Edoardo venne ricevuta in udienza privata dal Papa. E Pio XII, un Papa molto mistico, molto severo, durante l'udienza chiese agli attori, recitate qualcosa. E Titina De Filippo recitò proprio questo brano qui, il giuramento alla Madonna della Neve, nel quale, insomma, chiede che cosa deve fare, come se deve liberarsi o no di questo figlio che aspetta in grembo. e, insomma, mi pare anche questo un episodio che io ho letto e che non avevo mai, mai, mai sentito. Insomma, anche Pio XII, insomma, si era rimasto, nonostante la sua forte... fermezza, personalità, insomma, si fece... Allora, sabato 17 alle ore 20 e 30 e domenica 18 alle 19, alle 18 e 30, o alle 19 e 30. 19 e 30 domenica. 19 e 30 di domenica, sabato e domenica prossima, al Teatro d'Europa, Filumena Marturano. Si nasce o si diventa attori? Ma un po' abbiamo capito che... Ma secondo me si nasce. Si nasce davvero? Sì, si nasce davvero. Si diventa poco, perché secondo me l'attore, il vero attore, è quello che nasce così, è una sorta di dannato. È come quello che dice, ok, io voglio fare il prete, e c'è quello che dice, io voglio fare l'attore. Dopo Filumena Marturano, il cartellone del Teatro d'Europa. Il cartellone del Teatro d'Europa, subito dopo Filumena Marturano, andrà in produzione, sei personaggi in cerca d'autore, di Pirandello, un altro grande spettacolo. Pirandello e Luardo, insomma, si sono anche molto conosciuti, apprezzati, hanno anche molto... cioè c'è un fitto carteggio, ma anche una serie di numerosi, innumerevoli incontri tra i due. Beh, Angela Caterin, tanti auguri nel ruolo di Filumena Marturano. Speriamo che sia un grande successo, come oggettivamente ci pare di capire. Lo spero, lo spero. Il pubblico viene al Teatro d'Europa. Sì, viene, io vi aspetto numerosi, davvero, numerosi, tanti, tantissimi, perché per me è una vera e propria prova del nome, è la nostra responsabilità. Avremo modo per verificare, per riparlarne ancora con Angela Caterina del Teatro d'Europa, vi ricordo, Filumena Marturano in cartellone, sabato 17 alle ore 20 e 30 e domenica alle 19 e 30. Al Teatro d'Europa che sta, ricordiamolo, a Cesinali, a due passi da Avellino. Grazie ad Angela Caterina, grazie a voi, ai colleghi che hanno lavorato con noi a questa puntata di Senti chi parla, ci rivediamo probabilmente lunedì prossimo. Nel frattempo, buon fine settimana a tutti voi, arrivederci. Grazie a tutti i nostri spettatori